Il comune di Pescara non rinnova la convenzione con gli asili nido privati. 180 famiglie rischiano di subirne le conseguenze, quanto evidenziato dai consiglieri comunali del centro-sinistra e dal coordinamento genitori, i quali lamentano che per molti è impossibile pagare la retta intera e che il problema a 12 giorni dall'apertura dei nidi deve essere risolto. Piero Giampietro, consigliere comunale del PD. È successo che dopo tanti anni, per la prima volta, il comune non ha voluto rinnovare la convenzione con i nidi privati che consentiva ai bambini che non rientravano nei nidi comunali di accedere a questi nidi privati con le tariffe comunali. Questo ha portato a che i nidi privati occupassero i posti con i bambini che non rientravano nei regolatori comunali e di conseguenza 180 famiglie si ritrovano a 12 giorni dalla ripresa dei nidi e 180 famiglie non sanno se il primo settembre potranno permettersi di andare al nido o se il comune dirà che invece devono arrangiarsi. Perché chiaramente per una famiglia che finora ha avuto la possibilità di mandare i figli al nido con le tariffe comunali non avrà la possibilità di farlo con le tariffe piene. Noi abbiamo fatto fare diversi incontri tra i genitori e la giunta comunale. Il 27 luglio è l'ultimo incontro nel quale la giunta si era impegnata nel giro di qualche giorno a dare delle risposte. Siamo arrivati all'ultimo momento utile che i nidi privati hanno occupato sostanzialmente tutti quanti i posti e non c'è stata oggi alcuna risposta. Albiona Muccia del coordinamento genitore qui a Pescara. Voi avete indetto una conferenza stampa perché? Abbiamo indetto questa conferenza stampa proprio perché c'è stato questo incontro nella sala consigliare al comune il 27 luglio dove c'erano presenti tutti i capogruppo dei diversi partiti e ci è stato promesso che si sarebbero trovati questi fondi per il fondo del diritto dei bambini per gli asilini di comunali. Siamo al 17 agosto che non c'è stato nessun segno, non ci è stato detto niente e questi fondi tardano ad arrivare anche perché in primis bisogna fare uscire questo bando. Già il bando di sé per sé impiega tantissimo tempo e dopo il bando ovviamente ci devono essere tutte le domande fatte da queste 180 famiglie che sono al di fuori di questi asili comunali quando in teoria un comune come Pescara questo servizio lo dovrebbe offrire senza nessun tipo di problema. Altre difficoltà sono le famiglie monoredituali, affrontare una spesa degli asili privati che si aggira tra i 450 e i 700 euro mensili. Sono delle cifre veramente esagerate e come ho già detto una famiglia con un unico stipendio non arriva a pagare questi tipi di rette mensili.